Buongiorno da Obiettivo News. Oggi 15 maggio è Sant'Isidolo l'agricoltore e si celebra il tantesimo anniversario della giornata internazionale delle famiglie, istituita nel 1993 con l'obiettivo di promuovere il ruolo fondamentale della famiglia nella società. La famiglia forma, educa e istruisce i bambini e i ragazzi durante la crescita, trasmette loro i valori per un sano sviluppo morale. È il primo nucleo sociale, agisce per assolvere funzioni culturali e relazionali. I genitori hanno il compito di educare e formare gli adulti di domani in sinergia con la scuola, collaborando per lo sviluppo positivo di capacità e competenze. Madre e padre sono proiettate a proteggere e sostenere i figli dal punto di vista affettivo e dell'amorevole cura, come cure da quello economico prima che essi siano indipendenti con un lavoro proprio. Grazie a tutti.